Per quanto mi riguarda è un ritorno perché sono tornato a casa, mi sono sempre trovato bene, c'erano state delle discrepanze con l'allora guida federale, con Matteo Salvini, con Manuel Vescovi in Toscana, tutto il gruppo dirigente toscano mi trovo benissimo, condivido le loro idee e quindi non vedo perché non continuare a portare avanti quelle che sono sempre state le mie battaglie, le mie idee anche in fase amministrativa nel mio comune.